Ciao, benvenuti su Cartesia! Oggi vi propongo una ricetta davvero facilissima e velocissima, la ricetta del frappè alla fragola. Si prepara davvero in pochissimo tempo, è buonissimo, fresco e goloso. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Buona visione! Tagliate in piccoli pezzettini 200 g di fragole pulite, quindi lavatele benissimo sotto l'acqua corrente. Versate le vostre fragole nel frullatore. Versate anche 150 g di yogurt cremoso alla fragola. Dopo aver versato lo yogurt utilizzo un cucchiaino di miele, potete utilizzare se volete anche un dolcificante, fate un po' voi. Quindi versate il miele, vi serviranno 5 cubetti di ghiaccio. Mi raccomando frullate bene il tutto, dovete utilizzare un frullatore abbastanza potente. Adesso versate nel vostro frullatore 200 ml di soia, se volete potete utilizzare un latte normale oppure il latte di mandorla. Frullate bene il tutto. Facile, veloce, fresco, rinfrescante e goloso. Il nostro frappè alla fragole è pronto per essere gustato. Perfetto per la primavera ma soprattutto per l'estate che si avvicina. Ragazzi che dirvi, io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose. E tantissime altre video ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su facebook oppure su instagram come ricette golose di Cartesia. Io vi mando un bacio grande grande, condividete, commentate e soprattutto se vi piace la ricetta lasciatemi un bel like. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartesia!